Hai mai sentito parlare dell'apparizione della Madonna in Germania? Ti sei mai chiesto come una profezia possa cambiare il corso della storia? Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza, iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare i nostri messaggi di fede. Nel cuore dell'Europa, in una pittoresca cittadina tedesca circondata da colline verdi e rigogliosi boschi, un evento straordinario è avvenuto, scuotendo le fondamenta della fede cattolica e attirando l'attenzione del mondo intero. Si narra che il 12 maggio di tre anni fa, la Madonna si è apparsa in tutta la sua divina maestosità in un piccolo bosco nei pressi della città di Eichenwald. Questo miracolo senza precedenti ha scatenato un'ondata di emozione, speranza e trepidazione tra i fedeli e gli osservatori di tutto il mondo. L'apparizione della Vergine Maria è avvenuta in un'atmosfera di tranquillità e serenità, con il sole che splendeva nel cielo azzurro e il canto degli uccelli che sembrava armonizzare con il mormorio del ruscello che scorreva nelle vicinanze. Una giovane pastorella, Anna Müller, mentre stava pascolando le pecore in quel bosco, afferma di aver visto una luminosa figura avvolta da una luce dorata. Tremando di emozione e paura, si inginocchiò istintivamente e pregò. Fu allora che la Madonna, con un volto radiante e occhi dolci, le sarebbe apparsa con un messaggio che avrebbe sconvolto il mondo. La Madonna era avvolta in un manto azzurro stellato, con una corona di rose sul capo, e aveva una presenza così straordinaria che Anna non poteva fare a meno di sentirsi umile e protetta. La dolcezza della sua voce, mentre comunicava il messaggio, penetrò il cuore della giovane pastorella. Nel corso di quella visione, la Madonna avrebbe predetto tre anni difficili per l'umanità, un periodo di tribolazione in cui la fede e la perseveranza sarebbero state messe a dura prova. Questo straordinario avvenimento ha immediatamente attirato l'attenzione delle autorità religiose locali e nazionali, che hanno iniziato un'indagine approfondita per verificare la veridicità dell'apparizione e l'autenticità del messaggio divino. Le prime testimonianze di Anna furono accolti con scetticismo, ma la sua convinzione e la purezza delle sue parole non potevano essere messe in dubbio. Nei giorni successivi, un numero crescente di fedeli affluì al luogo dell'apparizione, pregando per la conferma del messaggio e cercando conforto nella promessa di aiuto divino durante i tempi difficili a venire. La notizia si diffuse rapidamente attraverso i canali dei media e dei social media, portando l'evento all'attenzione mondiale. In tutto il mondo, milioni di persone iniziarono a seguire con fervore la storia di Eichenwald e ad aspettarsi con ansia ciò che sarebbe accaduto nei successivi tre anni. Mentre il mondo osservava con trepidazione, l'apparizione della Madonna in Germania stava per svelare un capitolo nuovo e misterioso nella storia della fede e della profezia religiosa. Gli anni difficili e di tribolazione erano appena iniziati, e il mondo attendeva con il fiato sospeso per vedere come si sarebbero svolti gli eventi predetti dalla Madonna. La figura della Madonna, venerata da secoli dalla Chiesa Cattolica come la Madre di Gesù, è stata al centro di numerose apparizioni in tutto il mondo. Questi eventi misteriosi hanno spesso lasciato un'impronta indelebile nella storia religiosa e hanno ispirato profonde manifestazioni di fede tra i credenti. Si dice che la Madonna appaia in momenti di crisi e tribolazione per portare messaggi di speranza, rinnovamento spirituale e richieste di conversione. L'apparizione nella cittadina di Eichenwald, in Germania, ha attirato l'attenzione per la sua straordinaria singolarità. La figura di Maria, nella tradizione cattolica, è solitamente associata a luoghi come Lourdes in Francia, Fatima in Portogallo o Guadalupe in Messico. Tuttavia, il fatto che la Madonna si sia manifestata in un piccolo bosco tedesco ha aggiunto una dimensione unica a questa storia. L'apparizione nella foresta vicino a Eichenwald è avvenuta il 12 maggio di tre anni fa. Il luogo era scelto da Dio o da una forza superiore, e il suo aspetto era veramente straordinario. La Madonna era circondata da una luce dorata, il che ha reso l'esperienza ancora più sorprendente per la giovane pastorella, Anna Müller. I dettagli forniti da Anna sulla sua apparizione sono stati meticolosamente registrati e sono diventati parte integrante della narrazione che circonda questo evento religioso. Durante l'apparizione, la Madonna avrebbe condiviso un messaggio profetico che ha lasciato i fedeli in uno stato di meraviglia e incertezza. Le parole della Vergine erano chiare e dirette, e il messaggio si concentrava su tre anni difficili che avrebbero messo alla prova la fede di milioni di persone in tutto il mondo. La profezia includeva dettagli sorprendenti, che variavano dalla crisi economica globale all'aumento delle tensioni politiche. La Madonna aveva avvertito che durante questo periodo di tribolazione, la fede dei credenti sarebbe stata messa a dura prova, ma aveva anche promesso che coloro che rimanevano saldi nella loro devozione e nella loro fede sarebbero stati ricompensati alla fine. Questo messaggio ha spinto molte persone a riconsiderare le proprie priorità spirituali e a cercare rifugio nella preghiera e nella ricerca di un significato più profondo nella propria vita. La notizia dell'apparizione e della profezia non è stata ignorata dalla Chiesa Cattolica. Al contrario, le autorità religiose locali e nazionali hanno intrapreso una serie di indagini approfondite per stabilire la veridicità dell'apparizione e la coerenza del messaggio con la dottrina cattolica. Mentre alcuni erano scettici all'inizio, la sincerità di Anna Müller e la crescente affluenza di pellegrini al sito dell'apparizione non potevano essere trascurate. La Chiesa ha costituito una commissione d'indagine per esaminare la questione e ha incaricato teologi e esperti di indagare sulla profezia stessa. Le dichiarazioni ufficiali della Chiesa hanno riflettuto una certa cautela, ma anche un'apertura all'interpretazione dei fedeli e al potenziale significato spirituale di questo straordinario evento. Mentre il mondo continuava a scrutare il futuro con incertezza, l'apparizione della Madonna in Germania aveva già iniziato a plasmare il destino spirituale di molte persone, alimentando la speranza e la ricerca di un significato più profondo nella loro fede. La storia di Eichenwald era solo all'inizio, e le prossime tappe avrebbero portato a rivelazioni ancora più sorprendenti. Dopo l'apparizione straordinaria della Madonna a Eichenwald, la notizia si diffuse rapidamente in tutto il mondo. I media locali e internazionali fecero eco all'evento, attirando l'attenzione di milioni di persone. Le immagini della giovane pastorella Anna Müller e del luogo dell'apparizione affollato da pellegrini divennero icone di speranza e devozione. I social media giocarono un ruolo fondamentale nella diffusione dell'evento. Hashtag come cancelletto Madonna in Germania e cancelletto Three Years of Tribulation diventarono virali, collegando fedeli e curiosi da tutto il mondo. I video delle testimonianze di Anna e delle preghiere dei pellegrini Eichenwald furono condivisi migliaia di volte, creando una comunità virtuale di credenti che aspettavano con ansia ciò che sarebbe accaduto nei successivi tre anni. Il primo anno del periodo di tribolazione fu caratterizzato da una serie di eventi sconvolgenti. Crisi economiche globali e disastri naturali sembravano diventare sempre più frequenti. L'aumento delle tensioni politiche e delle divisioni sociali contribuì a un clima di incertezza e instabilità in molte parti del mondo. La gente si aggrappava alla fede e alla promessa della Madonna, pregando per la forza di superare queste sfide. Il secondo anno portò ulteriori difficoltà. L'ascesa di nuove malattie e la persistenza di conflitti regionali avevano un impatto devastante sulla salute e sulla sicurezza delle persone. Tuttavia, tra le prove e le tribolazioni, emersero storie di generosità, solidarietà e altruismo, con i credenti che cercavano di vivere secondo i valori cristiani e di aiutare coloro che erano più bisognosi. Il terzo anno del periodo di tribolazione segnò un punto di svolta. La profezia della Madonna aveva previsto che dopo tre anni le difficoltà avrebbero cominciato a diminuire. Questo cambiamento, sebbene graduale, fu percepito come una risposta alle preghiere dei fedeli e come un segno di speranza. Le tensioni geopolitiche iniziarono a calmarsi, e l'economia mondiale cominciò a riprendersi lentamente. In questo contesto di tribolazione e speranza, i fedeli dimostrarono una straordinaria forza interiore. Molte persone si riunirono in comunità di preghiera, organizzando pellegrinaggi a Eichemwald per chiedere la protezione della Madonna. Le storie di fede e devozione emersero da ogni angolo del mondo, con molte persone che testimoniavano di aver trovato conforto e forza nella loro fede durante questi anni difficili. Le testimonianze di miracoli attribuiti all'intercessione della Madonna cominciarono a diffondersi. C'erano resoconti di persone malate che si erano riprese, di famiglie che erano state riunite dopo anni di separazione e di situazioni disperate che avevano trovato una soluzione inaspettata. Questi eventi alimentavano la fede dei credenti e consolidavano la convinzione che la profezia della Madonna stesse gradualmente prendendo forma. La storia straordinaria dell'apparizione della Madonna Eichemwald e della profezia dei tre anni di tribolazione aveva segnato profondamente la vita di molte persone. Aveva dimostrato la capacità della fede di affrontare le sfide più difficili e di trovare speranza anche nelle circostanze più oscure. Mentre il mondo continuava ad affrontare le incertezze del futuro, la presenza della Madonna nella vita delle persone aveva lasciato un'impronta indelebile, ispirando. Ispirando la ricerca di una spiritualità più profonda e di un significato più alto nella vita quotidiana. Grazie per averci seguito, alla prossima!